Ciao a tutti, oggi ho deciso di registrare questo video dal sapore un po' vintage per spiegarvi un po' meglio in cosa consiste il corso per diventare lettori dei registri akashici. Allora, questo corso più che un corso sarà un percorso, nel senso che si svolgerà nell'arco di 30 giorni, dal primo di novembre fino alla fine del mese e durante questi 30 giorni io vi invierò tramite whatsapp degli audio di video in cui parleremo proprio di registri akashici e di tutte le tematiche che gravitano attorno ai registri akashici. L'idea di fare un percorso è un po' partita dalla mia esperienza, nel senso che quando ho iniziato a relazionarmi con l'energia akashica io all'inizio non sapevo proprio un po' cosa farne, nel senso che era percepivo che era qualcosa di forte, di potente, di importante ma non avevo, come dire, le capacità per gestirla e quindi ho iniziato a fare le mie esperienze, i miei percorsi, le mie prove, a informarmi, studiare, provare, finché sono riuscita a capire effettivamente cosa fosse questa energia akashica e anche a sfruttarla al meglio, entrare veramente in contatto e quindi riuscire a canalizzare questi messaggi e portarli nella mia quotidianità. Quindi quello che vorrei fare in questo percorso è aiutarvi proprio in questo processo e aiutarvi nel rendere più semplice la connessione tra la vostra esistenza e l'energia di quinta dimensione dell'akasha. Quindi durante questo percorso cosa faremo? Parleremo dell'akasha, capiremo quali sono le origini, capiremo quali sono le domande che possiamo porre sicuramente, ma poi scenderemo un pochino più nel concreto, quindi cercheremo proprio il metodo migliore per metterci in contatto con l'energia akashica e quindi faremo esperienza, faremo meditazioni, faremo esercitazioni. Questo ovviamente sarà coronato dall'iniziazione che avrà più o meno a metà corso, quindi l'iniziazione in realtà è composta da tre differenti iniziazioni, un'iniziazione che vi permette di accedere ai vostri registri, un'iniziazione che vi permette di accedere ai registri delle altre persone e un'iniziazione che vi permette di entrare in contatto con i registri di madre terra, ma anche quindi di poter fare lettura a distanza. I registri di madre terra all'interno contengono tantissime cose perché contengono tutto, contengono i registri degli animali, delle piante, delle abitazioni, degli oggetti, dei fiori, di qualunque cosa, quindi sarà uno strumento molto importante. Nel pratico poi andremo anche a capire come si canalizza, come sviluppare i nostri extrasensi, come andare a esercitarci, come andare a canalizzare con diverse metodologie, quindi con la verbalizzazione, con la scrittura, attraverso degli strumenti, per esempio vi parlerò anche di questo che è il pendolo dei registri acascici che è molto utile soprattutto inizialmente quando non siamo ancora in grado magari di acquisire le informazioni che ci arrivano in modo fluido, quindi sarà uno strumento molto utile soprattutto all'inizio, parleremo di oracoli e di tarocchi dei registri acascici perché chi è più affine con questa tipologia di strumenti, ce ne sono molti, quindi è importante andare a sfruttarli, ma parleremo anche di tematiche come il karma, il concetto di rincarnazione perché è strettamente legato proprio al mondo dei registri acascici, parleremo di guarigioni acasciche, quindi di come fare per andare a creare una guarigione sul piano sottile che poi si può andare anche a verificare sul piano, sul corpo fisico, come inviare un augurio di guarigione, parleremo di decreti acascici, di maestri ascesi, di energie angeliche, quindi andremo a parlare di molte cose, di molti argomenti che gravitano intorno a quello che è il mondo dell'acacia che è quindi questa quinta dimensione. Perché? Perché serve un'iniziazione e questo è molto importante proprio perché è la stessa acacia che è stata a un certo punto, diciamo che prima era per tutti, a un certo punto vista la sua potenza è stata un po' chiusa, ma adesso si sta riaprendo visto che viviamo in un'era, in un'epoca in cui c'è la necessità di questo grande risveglio, quindi andremo a sviluppare tanti argomenti nel corso di questi 30 giorni. Ovviamente tutti questi contenuti rimarranno poi a voi, saranno contenuti che potrete scaricare, salvare su una chiavetta, su un computer, ma potrete anche continuare a vederli nel gruppo che rimarrà lì. Ovviamente potrete farmi privatamente delle domande, riceverete un'iniziazione che è un'iniziazione a distanza ma è personale, quindi sarà solo vostra e sarà fatta per voi e ovviamente alla fine di questo corso potrete leggere i registi per voi, le registi per altre persone e riceverete anche un attestato che potrà magari essere utile per integrare la vostra professione o comunque un attestato di partecipazione che sarà per voi un ricordo, anche se sono certa che una volta che avrete fatto l'accesso ai registi acacici la vostra vita cambierà, non sarà all'ennesimo corso che metterete lì, ma sarà uno strumento di comprensione. Perché? Perché i registi acacici ci permettono appunto di poter indagare su tematiche molto importanti della nostra vita, quindi capire qual è il nostro scopo della vita, qual è il nostro talento, su cosa dobbiamo lavorare, cosa dobbiamo apprendere da certe prove, da certe situazioni difficili, come possiamo guarire, come possiamo cambiare un trauma del nostro passato, cosa dobbiamo imparare in questa vita di qualcosa che abbiamo vissuto in una vita precedente, se con qualcuno c'è stato un legame nel passato e che tipo di legame c'è stato, quindi sono contenuti molto interessanti. Partendo dal presupposto che con i registi acacici non si prevede il futuro, ma si comprende, quindi si acquisisce una consapevolezza che è alla base un po' di tutte quante le discipline. Parleremo anche di questo, del fatto che comunque questo tipo di energia è un'energia quasi alchemica, che ci permette di trasformare il piombo in oro, avremo la possibilità di vedere anche la nostra quotidianità sotto una luce diversa e quindi di apprendere tutte le lezioni che ci vengono poste di fronte e impareremo anche, essendo molto più centrati nel cuore, a capire la potenza di certe situazioni che apparentemente oggi ci sembrano delle sfortune, invece capiremo come farle diventare la nostra forza. Questo è un po' quello che volevo dirvi su questo corso e ovviamente c'è tempo per registrarsi ancora pochissimi giorni perché il primo di novembre si parte, è un corso che inizia e finisce, quindi chi sale a bordo entra alla fine del mese e sale e chi invece non si sente ancora pronto per farlo non è obbligato farlo ma se avete il richiamo c'è sicuramente un motivo e se volete più informazioni potete scrivermi privatamente come sempre rispondo sempre su whatsapp. Ciao a tutti, a presto!